Ora, se guardate sull'interno, potete vedere il luogo e ora è chiaro, quindi potete vedere il costo che si vede da Catania a Taormina. Andiamo tornando al volcaino, e ora voglio mostrare uno dei lavaflui più vecchi. Se guardate sull'interno, potete vedere queste stelle nero, rappresentano il lavaflu di 1793. Zafferana et Neha. L'acqua è finita prima di arrivare al villaggio, ma tutto questo materiale trattano la città di Zafferana e Neha. Guardate il coloro, guardate il coloro di queste stelle e la vegetazione. Ora nel buio o il suo luogo, ora si fanno l'acqua bianca. Ora la fuga è bianca, fa, non è un attività. Sì. Sì. Mordata. Mordata. Sì. Siamo fatto un po' di due cina. Ci non lo ha, che si deve. Siamo qui dalle sette. Siamo qui dalle sette. The lava fields of Etna down below here and then the ocean is straight ahead through the clouds. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie. Grazie. Grazie.